Buongiorno e benvenuti a questo seminario web dal titolo Opere pubbliche e territorio l'importanza dei sistemi di monitoraggio e della loro manutenzione. Io sono Fabrizio Curcio, sono capo del Dipartimento Casa Italia, Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e responsabile della struttura di missione per la ricostruzione del sisma dell'Abruzzo del 2009. L'argomento che mi è stato affidato in questo ambito di Opere pubbliche e territorio nella logica dei sistemi di monitoraggio e di manutenzione è comprendere come queste manutenzioni e questi processi collegati alle attività di monitoraggio delle opere pubbliche possano essere un punto di riferimento, un'opportunità durante le attività di ricostruzione sostanzialmente quindi nel post emergenza. In effetti è un elemento di grande importanza perché i processi di ricostruzione che vengono individuati su un territorio sono comunque dei grandi laboratori che si attuano sulle porzioni del nostro territorio nazionale. Noi nelle emergenze come dire ordinarie o nelle attività ordinarie evidenziamo spesso la necessità delle nostre opere pubbliche, del problema collegato alla manutenzione, del problema collegato al monitoraggio, ci sono via via progetti che impongono in qualche modo il monitoraggio e l'attività di manutenzione delle opere pubbliche però poi questo trova una difficile realizzazione nella realtà dei fatti e non solo per una questione collegata alle risorse. Sì certamente alcune volte collegate al sistema connesso delle risorse ma altre volte manca proprio l'impostazione anche mentale che un'opera pubblica nella sua realizzazione oltre ad avere un costo di realizzazione debba poi avere un costo di manutenzione anche se questo oramai è sancito in maniera chiara anche dalle normative che vengono in materia dei lavori pubblici. E allora ci troviamo spesso a che fare con degli eventi drammatici ma puntuali, è uno per tutti il ponte di Genova ma è solo uno degli esempi più drammatici in termini di costo di vita umane ma sono tante le situazioni, ricordo i crolli degli edifici a seguito dei quali poi periodicamente si inizia a parlare anche dei fascicoli fabbricati. Insomma è un problema che riguarda non solo le opere pubbliche ma in generale le infrastrutture del nostro paese e allora saltiamo da un'emergenza all'altra e focalizziamo le nostre attenzioni a secondo che si tratti di un'infrastruttura stradale, un'infrastruttura civile, un'infrastruttura industriale a secondo dell'evento emergenziale ha colpito quella o quell'altra situazione. Ecco quando invece impattiamo in un'emergenza tipica come esempio un'emergenza sismica che colpisce una porzione anche bassa del nostro territorio ecco là che improvvisamente tutte le strutture, dalle strutture private alle strutture pubbliche sono impattate dall'evento e quindi diventa, come dire, qua il concetto diciamo al di là del termine che ovviamente si collega poco con il dramma che segue a queste situazioni, il concetto collegato con l'opportunità perché un territorio colpito da un evento drammatico così esteso come può essere un evento sismico a costringe l'analisi di tutte le porzioni del territorio, a iniziare dei primi stati di emergenza durante i quali si verifica la fruibilità dell'opera fino a poi a definirne appunto la funzionalità nel cosiddetto periodo di post emergenza. Quindi in questo momento diciamo la parte di ricostruzione diventa veramente un laboratorio dal quale partire per fare dei ragionamenti su quella porzione del territorio e perché no anche sul livello nazionale di natura molto più vasta. Ovviamente io non mi soffermerò né sulla parte prettamente tecnica dei sistemi di monitoraggio che lascio volentieri a persone con maggiore competenza rispetto alla mia e neanche all'aspetto prettamente giuridico che come già detto già impone un ragionamento e una programmazione delle manutenzioni e dei monitoraggi delle opere a valle della loro come dire messa in funzione o realizzazione. Mi interessa invece focalizzare, anche perché questo è l'obiettivo diciamo dell'argomento che mi è stato affidato, proprio come questi elementi possano essere inseriti in dei processi, in dei progetti di ricostruzione. E allora è evidente che qua è importante comprendere un po' anche il percorso che stiamo cercando di fare come Paese, in particolare anche come Dipartimento nelle ricostruzioni in Italia. Dal punto di vista emergenziale devo dire che le questioni sono molto chiare. C'è un sistema di protezione civile nazionale che interviene nelle calamità più importanti tramite le dichiarazioni di stato di emergenza nazionale e poi ovviamente ci sono delle emergenze locali che vengono gestite diciamo ai vari livelli ma insomma fermiamoci a livello regionale come livello intermedio tra ciò che accade proprio sul singolo comune e il livello nazionale e su questo diciamo è abbastanza chiaro che al di là delle singole situazioni il sistema è pronto a reagire in maniera omogenea e coordinata. Evidentemente le singole emergenze hanno delle peculiarità che le differenziano le une dalle altre ma in effetti poi la modalità operativa, il metodo di lavoro è oramai accertato e condiviso. Questo è il motivo per cui poi si riesce anche a fare non senza difficoltà anche una sorta di pianificazione della gestione dell'emergenza a seconda dei rischi. In alcuni casi siamo un po' più avanti come sul rischio sismico parlo del livello nazionale o sul rischio idrogeologico, in alcuni casi si sta ancora lavorando come in altre tipologie di rischi ma comunque c'è un format operativo, una modalità operativa che omogeneizza le azioni. Quando invece poi si tratta di andare a ragionare sugli aspetti collegati alla ricostruzione allora ecco che la situazione si complica un pochettino. Si inizia a parlare dei vari modelli, il modello Friuli, si parla del modello Marche del 1997, poi il modello dell'Aquila, Emilia Romagna e così via. Ecco su questo credo che noi dovremmo fare due tipi di riflessioni. La prima è che nella logica generale io non sono molto propenso nel parlare di modelli perché come ogni emergenza è caratterizzata dal luogo dove è accaduta ma anche dal momento sociale nel quale è accaduto oppure dal momento anche storico del paese nel quale è accaduto così le ricostruzioni sono fortemente caratterizzate dallo sviluppo del territorio che in quel momento è stato colpito ma anche dal periodo generale nel quale quel territorio è stato colpito. Andare a paragonare ricostruzione del 1976 con ricostruzione del 2016 è fuorviante perché si tratta di mettere insieme bondi che non hanno nulla in comune. Se prendiamo l'organizzazione sociale del 1976 e del 2016 potremmo tranquillamente parlare di due paesi diversi, di due società completamente diverse. Quindi più che parlare di modelli a me piacerebbe anche qua parlare di modalità di lavoro, cioè comprendere perché mentre quando parliamo di emergenza noi riusciamo comunque a trovare dei modi di operare comuni. Quando parliamo di ricostruzione ogni volta riniziamo a immaginare processi di ricostruzione differenti e quindi la risposta che ogni evento è diverso dall'altro non mi soddisfa perché anche in emergenza ogni risposta come dire alle proprie peculiarità. Io credo che invece noi dovremmo esattamente come è stato fatto nell'ambito emergenziale trovare quegli elementi comuni sui quali comunque concentrarci nei processi di ricostruzione. Insomma se pianifichiamo l'emergenza perché non siamo in grado di pianificare le ricostruzioni? Fermo restando che ogni ricostruzione ovviamente avrà una sua peculiarità. Non c'è dubbio che gli eventi che hanno colpito il sisma del 2009 dell'Aquila sono eventi molto diversi anche in termini poi di prospettive di ricostruzione rispetto agli eventi del 2012 o addirittura agli eventi del 2016-2017. 2009 parliamo di una grande città, di un capoluogo di regione, sì certamente anche dell'Interland, ma nel 2012 parliamo del cuore produttivo del paese, il 9% del PIL italiano. Tornando al 2016-2017 parliamo intanto di un'attività molto diversificata perché gli eventi sono stati molto distribuiti sul territorio, ma comunque certamente con poche affinità con quello che si è stato fatto con l'Emilia-Romagna non fosse altro per le differenti problematiche che già da prima dell'evento interessavano quel territorio, il territorio per gran parte costituito dalle cosiddette aree interne. Ma malgrado questo noi credo che dovremo fare un grande sforzo per omogenizzare alcune cose sulle quali comunque ci troveremo a ragionare a valle di un evento emergenziale. Perché ogni volta dobbiamo inventarci un ufficio speciale che ha un'organizzazione, una costituzione completamente diversa rispetto all'esperienza del passato? Perché non riusciamo a trovare quegli elementi che messi insieme ci consentono di organizzare, progettare e immaginare una ricostruzione omogenea? Guardate, basti pensare per una cosa molto semplice e banale a quelli che sono gli strumenti informatici. Se noi prendiamo gli eventi del 2009 e prendiamo gli eventi del 2016 abbiamo due modalità di richiesta del contributo, proposta del contributo, analisi del contributo e derogazione del contributo completamente diverse l'uno dall'altro. Ci troviamo addirittura in alcuni casi, ricordo che c'è una zona di sovrapposizione di danno tra il 2009 e il 2016 in cui i due sismi hanno operato in quota parte su una stessa porzione di territorio e il cittadino si trova con due procedure diverse, ma anche il tecnico si trova con due procedure diverse. Non è un caso che proprio ultimamente stiamo ragionando insieme al commissario Giovanni Legnini, commissario per la ricostruzione per il sisma del 2016-2017 e il capo dell'ufficio speciale per la ricostruzione del cratere Raffaello Fico per il sisma 2009 e noi come struttura di missione Dipartimento Casa Italia per trovare una forma di omogeneizzazione e già con la disponibilità di questi colleghi siamo riusciti a trovare alcune soluzioni che rendano i due sismi nell'area di sovrapposizione se non altro gestibili in termini di procedure. Ecco, allora io credo che noi lo sforzo che dovremmo fare, sul quale ci stiamo molto concentrando anche come Dipartimento Casa Italia, è proprio quello di trovare una forma di omogeneizzazione sulle parti di ricostruzione. Su questo siamo anche un passo abbastanza in avanti perché con l'ultimo decreto legge sui sismi, quello del decreto legge 123 del dicembre del 2019, la Presidenza del Consiglio è stata investita di questo mandato e in particolare il Dipartimento Casa Italia è stato investito del mandato di coordinare e dare indicazioni agli enti che si occupano di ricostruzione degli eventi post-emergenziali, quindi sia da un punto di vista sismico che di altra natura. Noi ci stiamo organizzando per fare questo, stiamo riorganizzando il Dipartimento, stiamo ripetendo appunto i processi, l'obiettivo sarà quello di mettere insieme le esperienze dei sismi del passato per arrivare a dei processi, come dire, di ricostruzione omogenea e questo primo tavolo che abbiamo impostato con il Commissario Legnini e gli uffici speciali per la ricostruzione per il sisma 2009 è proprio questo obiettivo, iniziare a cercare di trovare quegli elementi comuni che noi potremmo mettere in piedi per la programmazione delle pianificazioni del domani. Mi piacerebbe ragionare, ma non solo insieme a questi soggetti, ma in maniera molto più ampia, ovviamente il tavolo si allargerà con tutti i soggetti che sono responsabili delle ricostruzioni, quindi fondamentalmente tutti i soggetti pubblici e anche i portatori di interesse privato, perché la ricostruzione di un territorio è un elemento che non interviene solo sulle scatole, sulle infrastrutture, ma interviene sulla vita sociale delle persone. Ricostruire non significa solo ridare le abitazioni o le imprese o le industrie, ma significa far partire il motore culturale, sociale, economico di un paese, per cui la condivisione deve essere il più possibile estesa, proprio per mettere insieme una serie di processi che siano tali da poter ragionare sulla pianificazione delle prossime ricostruzioni. Ora, questo elemento, tornando all'argomento del seminario web che mi è stato dato, impatta in maniera cruciale negli aspetti delle opere pubbliche, perché le opere pubbliche sono uno di quegli elementi, e lo vediamo anche oggi, che nelle ricostruzioni scontano intanto un ritardo maggiore. Vi porto l'esempio proprio della ricostruzione aquilana, sisma 2009, dove noi abbiamo una ricostruzione del privato che intorno al 70%, poi varia un po' a seconda che si tratti dell'area del Comune dell'Aquila piuttosto che dell'Interland, mentre abbiamo una ricostruzione pubblica ancora molto molto indietro, intorno al 20%, al 30%, insomma siamo veramente ancora molto indietro nella ricostruzione pubblica. Questo meriterebbe, come dire, un seminario web, un convegno web a parte, ma è argomento anche molto attuale, anche nel dibattito pubblico, nel dibattito anche politico, anche le recenti emanazioni legislative, hanno proprio come obiettivo un cercare di migliorare la rapidità con le quali si progettano, realizzano e si mettono in funzione le opere pubbliche. E quindi è argomento assolutamente essenziale anche nei termini delle ricostruzioni, ma nella ricostruzione noi possiamo e dobbiamo trovare quel tavolo di omogeneizzazione appunto nei quali si mettono a sistema i sistemi di monitoraggio e la programmazione e la manutenzione delle opere pubbliche, proprio per i temi che stavo affrontando prima, proprio perché non si tratta della singola opera sulla quale si va a fare il monitoraggio o la manutenzione. Quando si tratta di una gestione emergenziale, di una gestione di ricostruzione, noi abbiamo tutto il patrimonio pubblico, anche tutto il patrimonio pubblico da riverificare, migliorare, potenziare, ricostruire e allora eccolo qui che diventa certamente un punto di opportunità, di sensibilità pratica nella quale noi possiamo riversare queste attività. Quindi nell'opera di omogeneizzazione delle ricostruzioni che il Dipartimento sta impostando, ripeto la norma è una norma molto recente, quindi ci stiamo dando le prime regole, ci stiamo riorganizzando. Noi credo che un ragionamento, anzi non credo, è un ragionamento che faremo e che è un ragionamento che sarà la base degli accordi che verranno fatti anche nelle ricostruzioni delle opere pubbliche, quello del trovare la maniera per applicare dei sistemi di monitoraggio e gestire la manutenzione delle opere pubbliche in maniera diffusa, proprio perché il territorio è stato nella sua interezza colpito. In questo senso l'aspetto dell'opportunità è evidente come evidente il fatto che le opere pubbliche attengono a moltissime destinazioni d'uso, che hanno ovviamente anche sensibilità diverse. Molte delle opere pubbliche in tema di ricostruzione e anche in tema di emergenza sono anche opere strategiche, basti pensare alle opere dove vengono gestiti i coordinamenti delle attività emergenziali, ma anche le opere di mero servizio come possono essere gli ospedali o le opere infrastrutturali che consentono il collegamento o il raggiungimento di determinate zone. Quindi in conclusione io ritengo che le attività che sono alla base dei sistemi di monitoraggio e di manutenzione, ripeto poi dal punto di vista tecnologico, questo apre un mondo ampissimo perché il sistema di monitoraggio, basti pensare a tutto ciò che la tecnologia oggi ci mette a disposizione, ben sapendo che il sistema di monitoraggio poi prelude a tutta un'altra serie di attività che sia la conservazione del dato, il trasferimento del dato, il monitoraggio in tempo reale, insomma apriamo una parentesi molto grande sulla quale bisognerà anche qua fare delle scelte in funzione anche della destinazione d'uso delle opere stesse. Ecco, ma io credo che i processi di ricostruzione nel momento in cui mettono insieme tutto il patrimonio pubblico e tengono sott'occhio tutto il patrimonio pubblico dalle opere più strategiche, le opere di servizio, le opere scolastiche, come detto agli ospedali, ci consentano anche di fare una diversificazione sia se i sistemi di monitoraggio in funzione della strategicità dell'opera stessa e ci consentano anche una progettazione, una programmazione delle manutenzioni che possono essere di esempio, possono essere un punto di partenza importante anche per il resto del paese che magari non vive, come dire, l'emergenza o al momento non vive l'emergenza e neanche i temi di post ricostruzione.